Siamo qua a Palazzo Tursi per festeggiare l'ennesima volta questa grandissima promozione quindi insomma sono molto contenta e addirittura ho anche una giocatrice qua presente che è Cristiana Ferrando quindi insomma per il parque grandi festeggiamenti in attesa della Serie 1 di ottobre dell'anno prossimo State già attrezzando? Assolutamente sì, la squadra è già composta perché entro il 31 gennaio c'era la consegna della squadra quindi una squadra forte, una squadra che è pronta per affrontare un campionato ancora più difficile quindi non vediamo l'ora che arrivi Ho un mese e mezzo di distanza da questa bellissima vittoria contro Prato, che cosa ricordi? Io continuo a riguardare immagini e video ancora dopo un mese e mezzo quindi sicuramente grandi emozioni, grandi brividi che ancora adesso sono proprio nella mia memoria quindi durerà tutto un anno ma ce le porteremo dietro probabilmente come la più grande soddisfazione assolutamente personale e lavorativa che finora ho avuto Sicuramente per me giocare per il parque è una cosa veramente importante mi sento parte di questa squadra, di parte di questo club, vado spesso anche in settimana è proprio, fa parte del mio cuore quindi essere riuscita a portare a casa un risultato così importante per questo circolo per me significa tantissimo Qual è stata la partita che ricordi con più piacere, la sfida? Sicuramente tutte le partite sono state durissime perché il campionato è stato veramente tosto però se è una partita nel cuore è l'andata dei playoff in casa contro il Prato che era una partita dove sono partita molto in difficoltà il primo set e sono riuscita a girarla e a vincerla nel mio campo preferito del parque davanti alle mie persone quindi questa è stata la mia gioia più grande Grazie